Un applauso alla nostra squadra, dopo un promettente campionato dell'attenzione 81-82 si presentano i Warriors ancora più agguerriti. Un applauso di nuovo a EF Warriors. Passiamo brevemente a prenotare uno per uno con il numero 11 Fabio Castelmetri. L'acqua di Ferrara, i patti di Modena, l'Eurosystem, nuova linea di Pesaro e i piccioni, perdon, i dos di Bologna. Il numero 33 dell'Eurosystem, bloccato dal numero 44 che si fa sicurare la palla e si produce una bellissima cosa, un applauso all'occhio. Gio! 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 Grazie a tutti. 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 Vediamo il numero 19 che passa al numero 24. E tenta di entrare, bloccato più volte. Tenta di entrare. E' un applauso. Grazie a tutti. E' un applauso. Grazie a tutti. Vediamo di nuovo. Grazie a tutti. E' un applauso. partita. Partita è il numero 33. Cerca di scappare. Viene bloccato. il dietro in alto. Il dietro in alto. Un secondo termine della partita. è un applauso. Un applauso. Un applauso anche al giocatore di Pesaro. sentiamo delle piccole. Cerali con il取歌. Il赤, un primo. Mondiale con il Warren . Il potezo, il leggo dopo il minuto dei pezzi, noi asciutati sinistra Chapter 9, divordate con il piccolo del impuesto di brano. Emiliano. Il punto di di via dal Escossier. l' Encso. Di nasce un'piita. Viene bloccato con il lagart apartamento. Il numero 4. Presay. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.